La passione per il cinema La passione per il cinema mi è venuta a 13-14 anni vedendo in televisione la dolce vita di Federico Fellini che era anche evitato tra l'altro ai minori incredibile a pensarci ora e quel film mi ha trasmesso un amore infinito per il cinema e per il sogno per queste costruzioni metafisiche sogno che vivo ancora naturalmente che ancora coltivo anche proprio per sperare di poterlo sempre fare questo mestiere che in realtà è una grande passione un grande amore da alimentare ogni giorno l'aspetto che amo di più di questo amore, di questo mestiere è la condivisione umana del lavoro, dello spazio su un set con tutta la troupe e in primis con attori, direttore della fotografia e regista anche uno scambio intellettivo proprio, quotidiano quello che mi fa più soffrire è la mancanza di tempo che può esserci su un set per poter fare al meglio il papo lavoro e l'aspetto forse meno noto è quello dei grandi viaggi di poter fare dei grandi viaggi in tutto il mondo perché il cinema ti porta, a me non mi ha portato a viaggiare un po' in tutto il mondo il modo migliore per imparare questo mestiere, questo lavoro questa passione credo che sia proprio quella di dedicarsi ogni giorno a questo lavoro di pensarci ogni giorno di condividerlo con la troupe con i quali lavori artisticamente condividerlo, condividere i quali pensieri e studiare molto, vedere tanti film vedere tanti libri di foto, di film capendole e per approcciarsi un consiglio che posso dare è quello di andare, provare a andare sui set a seguire anche un fotografo o un direttore della fotografia o un operatore su un set e di cercare di vedere la luce vedere e sentire la luce grazie a tutti